Sarà il medico legale a stabilire l'esatta dinamica della morte di Mattia Fiaschini, anche se tutto fa pensare a una tragica fatalità. Il 24enne di Cesenatico è stato trovato senza vita domenica mattina dopo quattro giorni di ricerche. Il corpo dell'escursionista italiano scomparso è stato trovato oggi nelle Blue Mountain. Questo è il messaggio pubblicato dalla polizia australiana che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine italiane. Poco dopo una battuglia della polizia è andata a avvisare il padre del ragazzo, residente a Cesenatico, e poi la madre a Cesenatico. Entrambi stanno atterrando in questo momento in Australia e tra poche ore avranno il compito di identificare il cadavere del figlio. Mattia Fiaschini, nonostante la giovane età, era un escursionista esperto. Viveva in Australia da circa due anni e lavorava in un pub a pochi chilometri da Sydney. Ed è stato proprio dal suo locale che è stato lanciato il primo allarme giovedì mattina quando il giovane non si è presentato al lavoro. Da lì quattro giorni di ricerche fino al tragico ritrovamento. Fiaschini mercoledì aveva deciso di fare un'escursione da solo sulle Blue Mountain in un paradiso naturale che si trova a ovest di Sydney, caratterizzato da splendide foreste ma anche da ripide scogliere. L'ipotesi principale è che il giovane romagnolo abbia perso l'equilibrio mentre si trovava in una zona particolarmente imperbia precipitando nel vuoto. Tra poche ore lo rivedremo, ha scritto il padre, mentre si trovava in viaggio per raggiungerlo. Poi andremo a casa. I tuoi fratelli, i familiari e tutti i tuoi amici ti stanno aspettando. Nel frattempo la città di Cesenatico si è stretta intorno alla famiglia. Il primo a portare le condoglianze è stato il sindaco Matteo Gozzoli mentre domenica pomeriggio i giocatori della Del Duca Ribelle, squadra di calcio nella quale Milita e il fratello Di Mattia hanno osservato un minuto di silenzio.